Buongiorno, sono Massimo Sereni. Vi presento un nuovo canale di comunicazione, tecnologicamente molto avanzato, ma decisamente molto piacevole, Interactive Virtual Hostess. Buongiorno, sono Interactive Virtual Hostess, ma chiamatemi pure Sara. Sono il nuovo canale di comunicazione interattiva coi vostri utenti e posso essere utilizzata in tutte le lingue. Gli ambiti di applicazione sono innumerevoli, ad esempio i servizi per la pubblica amministrazione, la grande distribuzione, il retail, fiere, eventi, turismo, il mondo del cinema e dello spettacolo, la formazione e molto altro ancora. Come avrete notato, grazie alla mia sagoma, sono percepita come una persona umana e con la mia luminosità catalizzo l'attenzione delle persone facendole avvicinare a me. Inoltre, posso persino assumere l'identità del testimonial che più si adatta al vostro target. Ciao, sono Carlo. Scusate, ma io qui ci sto un po' stretto. Non è il mio guscio. Il testimonial non deve necessariamente essere umano. Ciao! Per il target adatto può anche essere utilizzato un avatar 3D. Quando non ho persone nelle immediate vicinanze, mi trasformo in un simpatico display, visualizzando i vostri messaggi promozionali, video pubblicitari o qualsiasi informazione desideriate comunicare, seguendo un palinsesto che può variare in funzione della programmazione oraria oppure può essere anche variato in tempo reale. Grazie ai sensori di presenza di cui dispongo, mi attivo al passaggio dei visitatori e inizio la mia comunicazione interattiva. Tutto questo sfruttando la capacità di riconoscere dei barcode o QR code presenti sui Daplian o sui prodotti stessi e fornire a fine evento un report dettagliato dell'utilizzo. Alla Welcome Desk posso dare un messaggio di benvenuto personalizzato per ogni singolo partecipante, essendo in grado di riconoscere il suo badge. Mi auguro che abbiate gradito questa carrellata di esempi. Sara, la nostra hostess virtuale, ha degli impegni e ci deve lasciare. Grazie per la vostra attenzione.